Eccoci entrati in studio, sono qui alla domenica famiglia, ci sono movimenti molto rapidi, molto veloci e qui un giorno faremo vedere il dietro le quinte, che succede quando c'è la pubblicità. Saluto allora i nostri nuovi ospiti, insomma nuovi che poi ritroviamo, le nostre esperte, qui farei un applauso, esperte di moda, di Glamour e appunto con Anna Svanini, titolare di Anna Calzature e invece vediamo se mi ritrovo Valentina Rovetta, creatrice di moda, insomma che ha ideato il marchio Vittoria B Couture. Oggi vedremo anche oggi, soprattutto dei consigli da voi, come dobbiamo innanzitutto vestirci a capodanno, giusto? Siamo al 28, mancano pochi giorni e saluto il dottor Vincenzo Mazzone, che è appunto il nostro nutrizionista che abbiamo già visto in diverse puntate di Veneradone, ricordo sempre il venerdì sera 22.30 e è rimasta con noi Angela De Sarnio, l'altra volta c'è stata un po' una lotta tra il dolce e la dieta, insomma che rappresenta. Tra l'altro poi oggi Mazzone ci farà vedere le calorie che mangiamo, le calorie dei rispettivi alimenti principali, ma poi c'è anche una slide del panettone, del pandoro. Sì, metà confronto. Insomma lei ci vuole rovinare le feste, insomma, dicendoci le calorie. Previene, ecco insomma, va bene. Tu Roberta intanto hai preparato qualche domanda? Soprattutto al medico. Alla medico nutrizionista. Nutrizionista. Bene, allora io vedrei subito una piccola sfilata delle nostre modelle, che già abbiamo visto in un'altra puntata. Ecco, queste sono i primi, se il nostro Jacopo può fare una bella inquadratura, un bel primo piano a, se mi ricordo, Luisa e Sara. Sara e Luisa. Ecco, questa con l'abito nero è Luisa, se non sbaglio. E sono anche memoria. E poi c'è Sara. Insomma, questi allora intanto, Valentina, sono abiti suoi questi? Sì, 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 questi sì. Che cosa vediamo? Questo abito appunto è ideale per il Capodanno. Sì, allora questi sono stati pensati appunto per la collezione di Capodanno, anche se poi si possono utilizzare anche per una cerimonia o per altre occasioni, per una cena importante, per esempio. L'abito nero è classico, è particolare ma molto classico, nel senso che comunque si può sfruttare in varie occasioni. Dietro ha sempre questo dettaglio della schiena, della schiena nuda e questo fiocco laterale è un po' particolare. Mentre invece l'altro è un abito di pizzo doppiato con un tessuto argentato. Quello che indossa Sara. Esatto, quello che indossa Sara. E quindi è molto particolare il gioco di luci che viene a creare questa cosa. So, complimenti perché fa degli abiti molto femminili, molto sensuali, insomma, che fanno colpo. Speriamo. Per fare colpo sugli uomini, insomma. Speriamo. E anche sul marito, eh, voglio dire, insomma, non soltanto sempre sugli altri uomini, ma anche sul marito e il fidanzato, insomma. Tranquillizziamo che i mariti è a casa. Ecco, quindi sono abiti ideali questi per il prossimo Capodanno. Sì, esatto. E infatti con Anna abbiamo scelto qui due Total Look, proprio per dare l'idea di come poterli abbinare. In questo caso siamo state con degli accessori, siamo andati con degli accessori argentati per entrambe. Poi ricordiamo che Luisa e Sara non fanno le modelle di professione, ma insomma si prestano a questo gioco della seduzione, della femminilità, del look. Anna, invece la scarpa abbinata a queste... Per le scarpe, invece, abbiamo scelto due sandali della collezione già... E con un esagere con questo spacco, altrimenti sono qui in camera, ma ci vuoi. Ecco. Abbiamo scelto due sandali della collezione estiva, praticamente, sono due novità che hanno appena consegnato, però sono già la collezione primavera-estate 2015. Noi per l'estivo abbiamo proposto questi sandali molto numerosi. Quindi questi modelli fanno già parte della collezione primavera? Sì, anche perché secondo noi nella primavera ci sarà veramente tanto argento in tutte le sue gradazioni e in tutte le sue nuance. Abbiamo fatto la clutch abbinata perché spesso poi la si può abbinare anche con un jeans e una camicia, quindi questi sandali possono diventare da sera abbinati a questi abiti oppure da giorno abbinati ad un jeans. Su una camicia o addirittura ad un abito più semplice, quindi diventano portabilissimi anche di giorno. Invece quello di Sara è sempre un po' più alto e poi abbiamo mantenuto il plateau. Qui il famoso tacco 12? Sì, anche 14. Anche 14? Sì, abbiamo proprio mantenuto il discorso del plateau perché ormai le nostre donne sono innamorate di questi sandali che comunque sono molto alti ma molto comodi. Quindi abbiamo mantenuto il discorso plateau. Invece per Luisa c'è un sandalo. Ecco perché il plateau dà tutto sommato questo sostegno al piede. Sì, sì, dà proprio la possibilità di portarle diverse ore. In più abbiamo fatto un abbinamento con una claccia nera per spezzare un po' il tutto argento che diventava forse un pochino troppo. Abbiamo messo la claccia nera e la collana invece bianca e argento proprio per renderla un po' più sbarazzina. E questa collana noi l'abbiniamo spesso comunque come dicevo prima anche ad un jeans e a un top molto semplice. Mettiamo degli accessori un po' particolari che rendono tutto un po' meno classico, un po' più frizzante. Davvero straordinari. Adesso però tra l'altro abbiamo due cambi oggi da vedere. Insomma ne vedremo delle belle. Tutti abiti per le prossime festività, quindi il capodanno soprattutto. I prossimi sì, però poi abbiamo fatto anche una sorpresa. I prossimi abiti sono ancora per l'ultimo, però in un'altra variante. Variante, adesso non svegliamo. Vedremo allora. Intanto grazie a Luisa e Sara. Potete... Potete pure andare a cambiarvi. Nel frattempo allora i consigli quali sono per il capodanno? Che cosa... qualche consiglio? Il colore piuttosto che... Cosa possiamo vestire? Noi proponiamo sempre di riutilizzare anche un tubino che ogni donna ha nell'armadio con un accessorio luminoso, anche un sandalo estivo, una collana chiara. Consigliamo proprio di dare un tono frizzante oppure un tubino nero con la scarpa rossa. Quest'anno ci sono tutte queste scarpe a punta in tutti i vari colori, quindi magari un abito nero semplice con una scarpa rossa che dà questo effetto forte oppure una calza madreperlata che dà proprio l'idea colorata. Poi io amo le calze particolari, quindi anche un tubino nero con una calza pua, una calza righe, una calza corta se si vuole fare, la decoltè nera oppure una collana importante, tipo la mia che ho oggi. Un tubino semplice con una collana importante e praticamente rendiamo nuovo un abito magari che non è nuovissimo. Perché a volte non è questione neanche di costi, cioè ci si può vestire con classe, con gusto anche senza spendere cifre. Assolutamente, anche perché in questo momento, come dicevamo nella trasmissione passata, tutti siamo molto attenti e di conseguenza io e Valentina abbiamo proprio questa idea del riutilizzo, quindi riutilizzare un abitino che abbiamo, un abitino estivo, mettendo qualche accessorio nuovo oppure magari usando una scarpa che abbiamo, perché abbiamo una scarpa rossa, un sandalo rosso, un sandalo bianco, un sandalo argento, oro, comunque un sandalo colorato e magari con un abitino semplice o in tinta oppure magari addirittura una follia. Scarpa rossa, abito fucsia e quindi questo diventa una cosa molto frizzante. Io sono sempre dell'idea che un bel sorriso e una bella scarpa col tacco alto ci rende tutti irresistibili. Assolutamente, sono d'accordo. Lei cosa dice Mazzone? Adesso so che c'è la moglie presente quindi non esageri insomma. Se vogliamo entrare nell'abitino che diceva la signora, voglio dire che dobbiamo prendere le dovute accorgimenti, quindi stare ben attenti a tavola a dosare la quantità, la qualità e quindi... Non c'è niente da fare, è più forte di lui, lui parla sempre di dosare, dosare... D'altronde è la dose che fa il veleno quindi... Sto scherzando, visto che appunto è nutrizionista e lui sicuramente in maniera, come si dice questa cosa professionale che uno ha, no? Deformazione. Deformazione professionale, in maniera positiva, fisicamente. Ho interpretato lei perché insomma almeno siamo due uomini, qui tutte donne, voglio dire. Valentina, consigli invece per l'intimo, deve essere abbinato al vestito? Ma allora va di moda l'intimo rosso, però anche la scarpa rossa o l'accessorio, sì... Lo esageriamo perché siamo un pomeriggio qui... No beh, dipende sempre dal vestito, dipende dal vestito che si indossa, se magari c'è una scollatura particolare, comunque ci sono in commercio tante soluzioni, perché la spallina fuori luogo è sempre un po' animale per vedere. Con un colore che deve essere abbinato, se invece è nascosto si può mettere quello che si vuole. Sì, assolutamente. Anche qualcosa di colorato, visto che è una serata speciale, quindi perché no? Qualcosa di più estroverso che nel solito quotidiano. Quindi intanto che aspettiamo allora il prossimo cambio, visto che le nostre modelle sono già pronte, così poi abbiamo anche un terzo cambio, poi dopo il tempo corre. Prego, allora Luisa e Sara facciamo un applauso. Ecco, invece allora qui cosa vediamo? Chi do le nostre esperte. In alternativa all'argento e al nero c'è anche l'oro, che sicuramente è molto interessante per l'ultimo dell'anno, perché bisogna un po' scintillare, visto che è una serata speciale. Anche qui sono comunque capi pensati per l'ultimo dell'anno, che però si possono comunque utilizzare in altri contesti, quindi una cerimonia, piuttosto che una cena importante o un evento importante. È molto bello questo tessuto, questo colore. È un pizzo dorato, molto d'effetto. Secondo me è una splendida punta di oro anche. Visto che magari sotto queste feste, insieme al rosso... Certo, non è da andare in ufficio. No, ma non si sa, magari Anna ci dà qualche consiglio anche per andare in ufficio. No, non lo so. In questo caso no, con gli accessori, gli abbinamenti sono pensati più ovviamente per l'ultimo dell'anno. Per le feste, insomma. Per queste feste. Per lasciare la bocca aperta a qualcuno. Più di qualcuno, insomma. Qua abbiamo abbinato dei tronchetti che sono un po' la novità di quest'anno. Queste scarpe. Sì, questo scarponcino alto. Che si chiamano? Tronchetti. Tronchetti. Sì. Diciamo che quest'anno hanno avuto un grandissimo successo fra tutte le donne. È il primo anno che li abbiniamo agli abiti corti, che li abbiniamo alla longhette, perché solitamente il tronchetto, diciamo, è più una scarpa da pantalone, da fusò. Invece quest'anno abbiamo tolto un po' questa idea, sono stati stretti alla caviglia e di conseguenza si possono portare molto bene anche con gli abiti corti. In effetti, come vediamo, non tagliano la gamba. Non significa che sono stretti, che è un modello particolare. Sì, hanno stretto la caviglia. Sì, noi quest'anno abbiamo aggiunto tutti questi accessori dorati. Sì, abbiamo proprio proposto tronchetti molto, molto luminosi. Anche da giorno li abbiamo proposti sia in camuscio, come li vediamo, questi che ha la Sara, e poi abbiamo proposto pelle, abbiamo proposto vari colori, abbiamo proposto tanti cavallini e comunque abbiamo fatto parecchi accessori dorati, perché secondo noi l'oro quest'inverno è stato proprio un punto di forza, sia come accessorio, ma anche nei biker, proprio questi biker molto sportivi, grintosi, abbinati con queste cerniere dorate, queste medagliette, queste cinturine, proprio per dare un effetto un po' più da donna. Insomma, poi l'oro porta bene il Capodanno, sono di buon ausficio. Gli antichi appunto usavano tanto oro, adesso c'è meno oro di quello vero, magari utilizziamo il colore. Sì, è vero. Perlomeno il colore è oro. E invece a Luisa abbiamo messo una charleston sfilata in cavallino nera. Charleston? Sì, questa scarpa con latticentrale viene chiamata charleston, proposta nel modello sfilato in cavallino nero con un tacco 10. E poi c'è questo, diciamo come chiamarlo? Questa sciarpetta, questa mantellina con il fiocco. Abbiamo fatto due proposte, abbiamo proposto la mantellina col fiocco, un po' più semplice per Sara. E invece abbiamo fatto una mantellina un attimo più costruita per Luisa, perché con l'abito lungo c'era questa richiesta di una cosa più importante. Cioè l'abbiamo fatto, vuol dire che voi le confezionate? Le facciamo, sì. Confezioniamo anche questa. Lei le disegna, le prepara. Diciamo, su misura, insomma. Non è che sia una produzione industriale. No, ogni pezzo è unico. O pezzi unici sono questi qua. Perfetto. Assolutamente. E abbiamo cercato di dare un effetto un po' particolare a questi abiti molto eleganti, che poi l'abito di Luisa, no, perché è un abito veramente impegnativo, ma l'abito di Sara potrebbe essere portato comunque con un pantacollant o comunque una calza coprente molto pesante, un biker e diventa uno scamicciato se sottomettiamo una maglia a manica lunga oppure se lo vogliamo rendere ancora più sportivo togliamo la sciarpa e mettiamo una pelliccetta oppure un giubbino in pelle. E lo portiamo da giorno, sì. Ma secondo poi insomma di come vogliamo provocare più o meno, insomma, perché logicamente... Così sono bellissime, diventano proprio veramente veramente eleganti. Adesso ci scriveranno per sapere dove vanno Sara e Luisa al capodanno, insomma, poi vi contatteremo. Va bene, grazie intanto per questa seconda sfidata. E grazie ai commenti naturalmente alle nostre esperte. Continuiamo con... Dicivi Roberta? Non c'è il microfono, attenzione. Sì, scusate. Quest'anno c'è stato un ritorno alla pelliccia ecologica. Sì, veramente tanto, sì. Abbiamo visto tutti i negozi tappezzati di queste pellicce ecologiche. Sì, l'anno scorso c'è stato un piccolo accenno e invece quest'anno c'è proprio stato un espluat. Noi le avevamo proposte in tutte le varianti, quindi pelo corto, pelo lungo, queste mantelline. Infatti nella trasmissione nelle quali siamo stati ospiti qui dieci giorni fa avevamo proprio proposto le due mantelline proposte nel chiaro e nello scuro. Oppure una cosa che è piaciuta molto è stata la pelliccia senza maniche proposta col cappuccio da portare sopra i giubbini in pelle, sopra i maglioncioni molto grossi e in più in tutti i colori. Nel cipria, nel panna, nel latte, nel nero, nel grigio. Poi c'è stata, diciamo, Fendi la fa da padrona con le sue pellicce meravigliose e noi da, diciamo così, un po' più spartani abbiamo proposto tutte queste pelliccette che Valentina ha disegnato e ha proposto. E abbiamo veramente avuto un grandissimo successo anche perché, allora, se posso dirlo io sono sempre per l'ecologico perché sono un animalista quindi tendo proprio ad amare tutto quello che è ecologico. Però hanno usato anche dei materiali veramente belli che quasi facciamo fatica a vedere la differenza. Un tipo di viscosa che rende molto simile alla pelliccia. Poi soffici, morbidi, caldi e molto molto leganti. Roberto, tu hai già preparato l'abito di Capodanno? Sì, sì, sì. Non ci sveli nulla? No. È un abito oro. Oro anche tu. Con i decolletè perché io amo i decolletè. Sappiamo che la scarpa d'eccellenza. Quindi di portarci le fotografie nel Capodanno. Mi vergogno. Ma no, perché devi vergognarti insomma. Va bene. Dobbiamo essere un po', avere un po' di autostima, no? Anna, quella che dice, oltre all'abito un minimo di autostima personale ci vuole. Io sono sempre d'accordo che noi donne... Comunque amo per eccellenza i decolletè. Quest'anno sarà l'anno del decolletè comunque perché già quest'inverno abbiamo visto che abbiamo portato i decolletè in tutti i tacchi, in tutti i colori, in tutti i materiali. E per la primavera ancora di più perché ci sarà questa proposta di materiali cangianti. Quindi queste vernici che vanno, fanno proprio chiaro e scuro e saranno veramente proposte in tutti i colori. Quindi andranno dal panna al latte all'oro all'argento per chi ama queste tonalità neutre. Che poi ci porterà, insomma, poi un anno avanti con la stagione vedremo quello che... daremo i consigli ai nostri interi aspetti. Però adesso continuiamo. Una carrellata su questi abiti che stiamo comunque vedendo nell'inquadratura. Valentina, Anna, che cosa vediamo? Allora, velocissimamente, questi capi non li ho disegnati io, ma sono interventi che abbiamo fatto. Ovvero, ci sarà una cosa, una collaborazione da noi, tra di noi, che parte da febbraio. Proprio all'interno di Anna, del negozio, ci sarà un corner dedicato al restyling completo dall'abito all'accessorio a scarba borsa. E quindi questi sono due capi che ci ha portato una nostra cliente, non erano così, sono stati rivoluzionati. L'abito rosso aveva delle maniche diverse. Abbiamo sistemato le maniche e abbiamo aggiunto il collo. Mentre invece l'abito nero, anche quello non aveva il bordo di tulle sul collo e aveva una gola completamente diversa. E quindi l'abbiamo ristrutturato completamente, gli abbiamo dato un look completamente diverso. E' evidentemente straordinario, anche la borsetta, veramente sono, borsette sono, che si chiamano queste borsette? Clacce. 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 Sì, clacce. Ecco, sto imparando anche, faccio le lezioni di moda. Veramente straordinario, anche le scarpe rosse, questo rosso vernice. Abbiamo cercato di dare un tono nuovo a degli abiti che comunque avevano già la loro storia. E di conseguenza abbiamo cercato di, naturalmente con l'intervento di Valentina, dare un aspetto nuovo all'abito. Però con due accessori molto carini abbiamo voluto dare un effetto nuovo anche a tutto l'insieme. E' quello che dicevamo prima, un piccolo accessorio, una cosa colorata, cambia tutto l'effetto. Io poi dopo devo correre, devo stringere. Grazie allora alle nostre modelle, Luisa e Sara, per queste esibizioni, di questi abiti straordinari per il Capodanno, che ci hanno portato, ecco un applauso, che ci hanno portato appunto Valentina Rovetta e Anna Svanini. Grazie a voi, insomma, per queste creazioni che, insomma, sarebbe un piacere vedere questa femminilità che è ritrovata, insomma, in questi abiti straordinari, in questo caso per il Capodanno. Potete restare.